Nel corso del periodo estivo hanno avuto luogo mirate campagne ispettive condotte dai reparti della Guardia di Finanza in sinergia con gli uffici territoriali dell'Agenzia del Dogano e dei Monopoli a tutela della legalità nel combattuto dei giochi e delle scommesse. Le iniziative in commento hanno interessato l'intero territorio nazionale, sono state strutturate su e distinte linee di azione. La prima ha interessato il settore delle scommesse, svolgendosi nel corso delle primi nari fasi a gironi degli europei di calcio maschile. La seconda è stata prevalentemente diretta al contrasto delle condotte illecite concernenti gli apparecchi convincite in denaro. Le attività ispettive sono state rivolte al controllo sul corretto attempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio da parte dei distributori e degli esercenti di gioco. Una particolare attenzione della Guardia di Finanza è stata riservata come di consueto alla tutela delle fasce per i più deboli, privilegiando i controlli nei luoghi e negli orari a maggior rischio di gioco minorile, procedendo a elevare sanzioni per l'inosservanza delle vigenti disposizioni in materia. A fronte degli oltre 2.000 controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, questi ultimi ripartiti in funzione di un'analisi condotta a livello centrale, volta a individuare quei contesti territoriali che hanno maggiori concentrazioni di soggetti economici a rischio, Sono state riscontrate 462 violazioni amministrative e penali, con la contestazione di sanzioni per circa 4,3 milioni di euro. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro 172 apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica e in taluni casi all'interno di punti di gioco completamente abusivi. Sono stati scoperti altresì 17 centri clandestini di raccolta delle scommesse, denunciate 119 soggetti all'autorità giudiziaria. I militari del corpo e i funzionari dell'Agenzia Allentrate stanno ora sviluppando le risultanze dei controlli per quantificare la base imponibile sottratta a tassazione sia ai fini delle imposte dirette che della normativa di settore, Il comparto del gioco pubblico in considerazione delle significative prospettive di guadagno offerte si conferma uno dei settori di maggiore interesse per la criminalità economica. Da ciò discende il costante impegno da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane dei monopoli a presidio della legalità a salvaguarda degli attori della filiera regolare e dei giocatori.